Allora è partita la quinta batteria, Geruini, Floris, Folli, Cuadibue, Formosa, Meles, Castorina, Tecco, Montemurro, Cerello, De Rosa, Longaretti, Guevara, Sanchez, Gualtieri, Gatti e Martuffi. Queste sono le 16 ragazze a caccia di punti sulla pista di Senigallia. Allora siamo nei punti ragazze, perché era campana, quello siamo nei punti, 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 due, quattro, due, cento, ventitré. Gualtieri ancora in testa a tirare il gruppo, passaggio campana dei meno undici. E via ancora in cerca di tutti. E ecco le che si presentano. 1, 9, 3, 8, 6. Folli, Viglia, Folli. E poi Castorina. E qui, queste possono essere i due protagonisti poi nella finale. Le ricordo agli indoor a Tescara fare buone cose, ma poi anche nelle altre gare che ci sono state. Non molte in realtà. Intanto siamo già nel giro che assegna punti 138 e 193. Queste sono le atlete dei punti al passaggio, quindi... Guevara, Sanchez e Folli erano... Suono della campana, punti, punti! E ora l'atleta del Menzana che rilancia l'azione. 1, 9, 3 e 150. Quindi Folli e Ferubini al passaggio. E ora, meno 5, campana di meno 5. E' in testa. Sono Folli, Ferubini, Castorina. Ma intanto che io lo dicevo, da dietro sono rinvenute le altre. Ora è Castorina che lancia l'azione con Folli. Dietro. 86, 193. Questo al passaggio, quindi Castorina e Folli. Castorina e Folli, poi... E Folli, guarda qui dietro. Ferubini che ritorna sotto. Passaggio di meno 3, campana. Punti, punti, punti! Le prime 8 accedono a turno successivo ed è Folli. Seguita da Castorina. Prendono 3, 4 metri di margine. 193, 86. Dai un ballare, via via via, dai cora! Castorina in testa. E eccole al passaggio, ultimo giro. Ponne in Castorina a Codibue al momento. Con loro anche Martuffi della Civitanova. 193, 86, 107. Quindi Folli, Castorina, Codibue. E eccole al passaggio. 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 E eccole al passaggio.